Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a FIFA 21 che vi propongo in questa forma perché la notizia è uscita da pochissimo e non volevo perdere tempo. Allora, sono uscite finalmente delle novità relative al foot con una serie di aggiornamenti su quello che è lo sviluppo di FIFA 21 in questa direzione che sicuramente faranno la felicità di molti. Perché sì, sembra che effettivamente FIFA 21 abbia le carte regole per migliorare quanto fatto dal precedente capitolo e se partiamo dal presupposto che qualche tempo fa furono fatte dichiarazioni in merito, in cui Leto Riccardo ha spiegato che il tentativo, l'obiettivo era quello di rendere FIFA 21 in termini di foot un prodotto più accessibile, più godibile, un po' per tutti, le novità che sto per raccontarvi sembrano andare proprio in quella direzione. Cioè, qualcosina effettivamente stanno facendo e per quanto io tenda ad essere sempre ipercritico con questo brand, voglio, quantomeno, prendere le novità con il beneficio del dubbio. Sembra che ci sia qualcosa di buono. Ma andiamo con ordine. Allora, partiamo con la notizia che onestamente a me interessa meno, ma potrebbe effettivamente rappresentare un po' la cosa più intrigante per molti, ovvero il foot co-op. In sostanza, il gioco introdurrà una serie di dinamiche con la possibilità anche di poter partecipare alle division rivals in compagnia di un amico. Per cui ci saranno tutta una serie di novità in cui, ovviamente, si rifletteranno anche i premi che potranno essere ottenuti da entrambi i partecipanti alle partite in co-op. È una novità che sicuramente farà la felicità di tutti quelli che sono abituati a giocare online e non escludo di portarvi qualcosina in merito se dovessi trovare un altro disposto a giocare in mia compagnia. Ecco, vedremo un po' tra i creator attivi anche su Xbox, visto che io credo che lo prenderò lì, chi ci sarà eventualmente. Comunque, discorsi che poi faremo. La cosa importante è che quest'anno, per limitare un po' l'entry level, cioè l'accesso a tutte le attività del foot, alla possibilità di farci una bella squadra, hanno inserito anche degli eventi community, degli eventi foot. In sostanza, ci saranno degli obiettivi durante l'anno, durante la stagione, legati a determinati giocatori. Hanno fatto vedere, per esempio, la possibilità di parteggiare per Joao Felix o Haaland. Scegliendo uno dei due, in base a quello che poi accadrà nel mondo reale e in base a quello che si farà in game, si potranno ottenere delle ricompense. In questo senso, hanno aggiunto anche i community events. In sostanza, cosa si tratta? Ci saranno degli obiettivi condivisi da tutta la community, che se raggiunti, garantiranno un premio a tutti i partecipanti. In sostanza, cose del tipo, la community deve vincere mille partite. Una volta che la community avrà raggiunto questo tetto, tutti quanti quelli che hanno contribuito a quel traguardo otterranno un premio. Intanto vi faccio vedere un po' delle nuove immagini che sono uscite. Qua si parla, per esempio, di squad battles condivise con gli amici. Qui, ad esempio, possiamo vedere un pochino l'interfaccia generale. E qui si parla, appunto, proprio di co-op. Ci sarà un capitano e il compagno, insomma, quello che entrerà nella partita, che avrà la possibilità, appunto, di partecipare alle attività generali. La cosa che mi intriga maggiormente, e per parlarvene vi lascerei su questa schermata, scusate, questa qui, sono i meaningful moments. Allora, in sostanza, di che cosa parliamo? I meaningful moments saranno dei cambi dinamici, qua torno io, dei cambi dinamici delle statistiche dei giocatori. Legati al rendimento di quei giocatori nel mondo. In sostanza, le carte potrebbero cambiare, subire delle variazioni durante l'anno, in base a come si comporteranno i giocatori sul campo. Quindi, credo che questo avrà delle implicazioni abbastanza importanti anche sul mercato stesso, lo renderà un po' più imprevedibile, lo renderà un po' più divertente da vivere. Insomma, mi auguro che riesca a rinfrescare un po' una formula generale, in cui c'è stato da sclerare tanto. E qui mi aggancio a una riflessione che volevo fare da un po', accolgo l'occasione per farla. È tutto molto bello, cara Electronic Arts. È tutto bellissimo, è tutto interessante, è tutto... L'intenzione di ravvivare un po' la situazione è bellissima. Però, santo cielo benedetto, facciamo qualcosa per i fottutissimi bot? Facciamo qualcosa per il fottutissimo mercato nero del foot? Facciamo qualcosa per chi su questa piattaforma spamma cose che non dovrebbero essere spammate? Perché, nei termini e condizioni di FIFA e dell'ultima team, ci sarebbe il fatto che non si possono sponsorizzare i siti di crediti, parlare di siti di crediti, usare i siti di crediti, eppure tutti lo fanno. Cari Electronic Arts, facciamo qualcosa a riguardo per rendere veramente meno tossico il mondo del foot? Perché sarebbe bello per chi non vuole partecipare a questo circo, ecco. Detto ciò, al di là di questa mia riflessione che mi andava di fare, che rifarò, rifarò e rifarò e rifarò, per cui abituatevi a sentirne parlare, hanno rimosso, questa è una buona nuova, hanno rimosso le carte allenamento e le carte per la forma fisica. In sostanza è finito l'incubo della condizione atletica, incubo. E' finito anche quel poco che ti poteva spingere a fare un minimo di turnover. In una modalità che non vuole incoraggiare il turnover, parliamoci chiaro. Era un pretesto per farti spendere un po' di soldi, per smuovere un pochino il mercato. Quest'anno non ci sarà né carte allenamento né carte stamina, per cui i giocatori saranno così dopo ogni partita, riprenderanno la loro forma al massimo e potranno essere riutilizzati serenamente. Chissà se i cartellini rossi, le sanzioni, insomma, si manterranno, ma credo onestamente di sì. Per il resto si è parlato anche di nuove icone, fra cui Xavi, fra cui soprattutto Eto'o, che è quello che forse tutti quanti aspettavamo un po' di più, perché, insomma, Eto'o è uno dei giocatori più rappresentativi del panorama calcistico appena passato, diciamo così. I tifosi dell'Inter e del Barcellona saranno impazziti probabilmente e, insomma, come dargli torto, perché Samuel Eto'o è un po' quell'attaccante che tutti vorremmo avere nei nostri ultimi team. E, inoltre, ci sono novità anche per quanto riguarda la gestione degli stadi. In sostanza, gli stadi avranno dei progressi accumulabili, cioè andando avanti e migliorando il proprio prestigio, si potrà migliorare la personalizzazione dello stadio. In sostanza, più andremo avanti e più cose potremo andare a toccare nel nostro stadio, fra cui la folla, anche i cartoni di pubblicità, da quanto pare la struttura stessa, in aggiunta, ovviamente, anche alle classiche coreografie in curva che potranno essere personalizzate. Ma, dal filmato che si è visto, sembra che ci possa essere molto, molto di più. Detto ciò, ragazzi, le novità sono sicuramente intriganti, sono sicuramente e potenzialmente utili a migliorare l'universo del foot, ma, ripeto, al di là delle modifiche, delle migliorie, delle cose aggiuntive che la Tonic Arts sta facendo per rendere l'esperienza più godibile, per migliorare complessivamente l'ecosistema del foot, ci sarebbe quel problemino da risolvere, che credo che sia ampiamente risolvibile, sempre che lo si voglia risolvere, perché a tratti è sembrato che le Tonic Arts si girasse dall'altra parte, per far sì che se ne potesse continuare a parlare. Per cui, cari Tonic Arts, facciamo anche cose che non siano di facciata, perché c'è tanto, tanto da lavorare, anche a livello un po' più in profondità. E chi vuol capire, capisca. Detto ciò, ragazzi, queste sono le news, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere l'impressione che vi ha fatto, fatemi sapere se avete intenzione di giocare il foot quest'anno. Io, vi ripeto, come sempre, mi avvicinerò al foot anche quest'anno. Come sempre farò le mie due o trecento partite, salvo poi dare un giudizio, così come ho fatto con FIFA 20, che ho abbandonato dopo aver compreso che, diciamo, alcune cose venivano sviluppate nel tempo, un po' alla solita maniera. Spero che quest'anno possa essere un anno buono per viversi anche il foot in maniera più leggera. Non credo che ve lo porterò qui su YouTube, qui porteremo, come sempre, le carriere, poi, eventualmente, altrove faremo anche il foot. Ma, ripeto, dipenderà un po' da tante cose, compreso anche questo fottutissimo discorso del mercato nero, che non mi piace, non mi è mai piaciuto, e che credo che sia il problema primario, primario, in assoluto, che ha sempre, comunque, intossicato in maniera irrimediabile il contesto online del gioco. Per cui, cara EA, se è vero che ascolti la tua community, ascoltala, ecco, perché non sono solo io a dirlo. Quindi, ragazzi, un abbraccio a tutti, fatemi sapere cosa le pensate, attendo vostre, e noi ci vediamo alla prossima, sperando che arrivino presto anche delle novità un po' più cicciotte sull'Ultimate Team. Dovrebbero arrivare a ore, se non ricordo male, per cui ne parleremo, ne ritorneremo a parlare. Per adesso, però, questo è quanto. Per cui, fatemi sapere, noi ci vediamo alla prossima.